Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha deliberato a maggioranza l'istituzione del Centro Anziani a Parco Leonardo. L'edificio, al momento in ristrutturazione, sorgerà a Via Copenhagen in zona Pleiadi e si svilupperà su un'area di oltre 260 metri quadrati. Il luogo di ritrovo si va ad aggiungere ai centri di Aranova, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Passo Scuro e Testa di Lepre. Richiesto con una raccolta di 500 firme garantirà ai cittadini anziani lo svolgimento di attività conviviali, culturali e socio-ricreative. Iniziamo a mettere ordine in un quartiere intero, istituendo un nuovo centro sul territorio, dopo quello inaugurato ad Aranova sempre dalla nostra amministrazione. Sono state le parole del Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Oggi iniziamo un percorso che doveva essere intrapreso anni fa e che ci porta a dotare di servizi essenziali il quadrante ovest della città, sono invece alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'assessore alle politiche del territorio Ezio Diginesio Pagliuca.